E cerchiamo di introdurre invece un ospite che merita che essere introdotto in un certo modo perché è un nostro amico E oltre ad essere un nostro amico è un grandissimo, uno dei più bravi che ci siano in Italia, non solo a Roma Bravi a fare che? A far ridere le persone A questo sprint per me tutte, perché entra un applauso Buongiorno Maurizio Battista Buongiorno a voi Buongiorno grandissimo, complimentissimi Sono stati momenti fantastici durante il tuo debutto di martedì Molto, ma come sempre Maurizio Troppo buono Fai a ridere da sempre, milioni di romani e non solo milioni di italiani Devo dire Maurizio che questo Sono milioni di cinesi si può dire Bravo, bravo, ormai sono più loro Miliardi di cinesi Senti Maurizio, questo spettacolo è un po' un ritorno al passato Perché sei sempre più convinto dalla cantina al Sistina Eh certo, abbiamo fatto come hai visto il percorso da 20 anni fa a oggi diciamo Certo, aver aperto il Sistina è una bella soddisfazione Aver aperto la stagione del Sistina No, no, che chiudiamo Lo teniamo bello aperto a lungo ancora Sì, sì Questi 20 anni di carriera di percorsi in questo spettacolo Perché tu hai cominciato proprio dalle cantine di Roma E dove c'erano i localetti carbonari Insomma, quelli Così non c'era anche la cultura Perché a Roma stesse il mondo un po' di meno C'è giusto il puff Così Sfiguraccio su figuraccio Perché quella è la storia Siamo arrivati qua Ma non è sicuramente un punto d'arrivo Perché è un punto di partenza Maurizio, non soltanto il Sistina Sei impegnatissimo Certo, scusa tanto, no Sulla luna affari dei marziani E poi dai Maurizio È un punto di partenza Perché stai facendo tantissime cose Insomma, a parte il cinema Al teatro Insomma, sei tempo impegnatissimo È un punto di arrivo Di quello che sia Che abbiamo visto Che dividiamo con tutti gli ascoltatori E amici che sono venuti al teatro E che non sono venuti Lo dividiamo con tutti Perché per questo lo abbiamo fatto tutti insieme Non solo Maurizio e Battista Che quelli che in questi 20 anni In un modo o nell'altro Ci potevano un po' di più Noi non sono stati presenti Noi oltre a essere amici di Maurizio Siamo anche i tuoi primi fans E la Io la Si è messo allora Eh, si, si Si è messo malissimo Male, male C'hai un target bassissimo A livello intellettivo Più che altro Te l'abbassiamo tantissimo noi Maurizio, perdona Uccidiamo la qualità Dei tuoi fruitori Però Io l'aspetto fondamentale Che noto Che quello che piace di più Di Maurizio Battista È proprio questo Che è uno di noi È una persona che comunica La gente in modo semplice Spontaneo E questo arriva Non è che faccio uno sforzo Io lo faccio solo così Cioè il mio grado sociale Culturale E cioè Mi piace solo questo Cioè non ho voglia Che è molto costruito Sia a livello di immagine Sia a livello di impostazione Alla fine Sei una mosca bianca In questo mondo E viene amato dal popolo Riuscire a lavorare A far diventare gente Specialmente E rimanendo di successo C'è solo E quello forse È grande successo Senza dover costruire In piccio In broglie Insomma Questo è un bel vantaggio Ricordiamo a tutti quanti I nostri ascoltatori Dal 21 settembre Al 10 ottobre Al Teatro Sistina Lo storico Teatro Sistina Maurizio Battista Da martedì Al sabato Alle 21 E la domenica Alle 17 Ma Maurizio Sappiamo che sei impegnato Anche al cinema In questo momento Stai girando un film Un'altra bella sfida È un film Fatto Prodotto da Romani Fatto da Romani E questo Lo dico in senso buono È una bella commedia Dove io E Enzo Salvi Siamo i protagonisti Poi ci lavorano C'è Carini Poi ci danno un sacco Di sorprese Non ve le dico Ma anche per Anche per tifosi Ti dico solo questo Tifosi Da una parte E dall'altra Quindi per i tifosi Di Roma e Lazio Ci saranno gradite Apparizioni Non diciamo niente Ma graditissime Per l'uno Che per l'altro Maurizio Ti ringraziamo tantissimo Invitiamo tutti Un abbraccio A tutti gli ascoltatori E ragazzi Qualsiasi cosa Battista è presente Grazie Maurizio Un abbraccio grande Grazie amici Ciao Al lupo per tutto Ciao